Un grandissimo passaggio di Prince che mi ha messo davanti alla porta e la mia prima idea è stata subito quella di calciare col destro sul primo palo anticipando il portiere. Sono contento per il gol perché un gol nel derby è una grandissima soddisfazione per me, però anche dispiaciuto per il risultato perché sicuramente meritavamo di più per quello fatto nel primo tempo. Ma il primo gol nel derby credo che sia veramente un'emozione unica, tutti e due veramente bellissimi gol perché anche quello con lo Zenit è stato un bel gol, quindi sono veramente contento. Nel primo tempo abbiamo creato veramente tanto, abbiamo imposto il nostro gioco creando tantissime occasioni, due limpidissime con Mario, però lì è stato veramente bravo Andanovic a negargli i gol. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto questa piccola disattenzione sul gol facendo classare Nagatomo, lì è stato bravo anche Schelotto a inserirsi. Però comunque dai, siamo contenti della prestazione, siamo ancora sopra, quindi pensiamo alla prossima partita. Credo che siamo veramente in crescita, stiamo facendo delle grandissime cose, abbiamo trovato un nostro equilibrio di squadra, quindi dobbiamo veramente continuare su questa strada e il nostro obiettivo adesso deve essere quello di raggiungere il Napoli e di passare il turno in Champions col Barcellona.